Musica Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il professor Nardi e il dottor Santone per parlare di disturbi fobici. Ecco, professor Nardi, prima parlavamo appunto dei disturbi fobici che purtroppo affliggono anche i bambini. E purtroppo anche nell'ambiente scolastico si può sviluppare nel bambino la vera e propria fobia scolare. Come si può affrontare questa paura? La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di capire che effetto fa al bambino andare a scuola. E parallelamente che effetto fa ai genitori di quel bambino, alla famiglia di quel bambino, mandare quel bambino a scuola. Perché se ignoriamo questi due aspetti diamo una risposta che è centrata sul sintomo, come dicevo prima, cioè sulla fobia e non sulla persona. E quindi rischiamo di fare un intervento che è inefficace. Qual è la paura che ha il bambino? Per esempio, il bambino può avere paura di non controllare la situazione, può avere paura di rimanere solo, può avere paura che il genitore non c'è più, può avere paura che altri bambini gli facciano del male. Queste paure a volte sono motivate, qualche volta non sono motivate, qualche volta il bambino si trova di fronte a delle esperienze brutte che magari fa fatica a raccontare. Qualche volta il bambino vive la scuola con le paure della famiglia. Quindi è molto importante non generalizzare, ma considerare caso per caso quel bambino, quella famiglia, quella storia e cercare di capire cosa ci dice una fobia, un problema, del modo di funzionare, del modo di vivere quella situazione da parte del bambino e della sua famiglia. Allora possiamo dare una risposta centrata sulla persona. Un'altra situazione molto comune per esempio è la paura di deludere, di non piacere, di non essere all'altezza degli altri. Direi che queste due paure, la paura di perdere il controllo, di non riuscire a gestire i rapporti con gli altri, di essere oggetto di minacce, di pericoli, di qualcosa di brutto, di essere abbandonato e la paura di non piacere, non essere adeguati, non essere all'altezza, non essere come gli altri, sono le due paure più importanti che a volte il bambino condivide col suo ambiente familiare. Tante volte c'è bisogno anche di rassicurare i genitori, i nonni, quindi l'ambiente e d'altra parte in molte situazioni, quando un bambino cambia atteggiamento, il bambino diventa più chiuso, più silenzioso, ha disturbi dell'appetito, ha disturbi del sonno, può dirci indirettamente che c'è qualcosa che non va, quindi va studiato con molta attenzione, va osservato, va ascoltato, vanno vinte le sue paure perché solo dialogando col bambino, con le figure genitoriali, con i nonni, con tutti quelli che in qualche modo fanno parte della sua vita, possiamo capire realmente cosa sta succedendo. Altra situazione, lei pensi casi di separazione, di conflitti familiari, di conflitti tra genitori e scuola, ci sono tante problematiche, a volte ci sono le paure delle mamme, per esempio, perché tu accompagni tuo figlio a scuola, c'è un certo rapporto con tuo figlio, tuo figlio si adatta emotivamente a te, vai a parlare con la maestra, la maestra ti parla di un'altra persona, cioè ti descrive un bambino diverso da quello che tu sei abituato a considerare, stanno semplicemente raccontando lo stesso bambino che con due persone diverse emotivamente si comporta in maniera diversa, questo per dirle la complessità della psico-umana, ma anche la necessità di osservare le persone, i bambini, uno per uno, senza fare casistica, senza dire questo mi ricorda quell'altro, questo è come il fratello, è diverso, perché dobbiamo veramente fare attenzione a quel singolo bambino e a quel singolo genitore. Quindi, professor Nardi, la struttura familiare può a volte favorire la fobia scolare? Sicuramente è possibile, ma diciamolo meglio, qualche volta la famiglia ha paura della scuola, ma come tutte le situazioni, il bambino che gioca al parco giochi si fa male, la prima cosa che fa è guarda la madre, se la madre si spaventa, piange, se la madre ci fa una risata sopra, sente un po' di dolore, si pulisce il ginocchio e riparte. Questo per dire che i cuccioli umani hanno bisogno di un adulto che li guidi alla scoperta di sé del mondo. Quando l'adulto li guida con timore e soprattutto non gli dà gli strumenti per affrontare le situazioni, il bambino non sa come reagire e quindi si spaventa e in qualche modo le memorie delle paure si stratificano che non entrano a far parte della sua personalità. Professor Nardi, ma come si manifesta materialmente l'angoscia del bambino che ha della fobia scolare? Il bambino può dirlo chiaramente, soprattutto con il linguaggio non verbale, con i pianti. Altre volte, per esempio, somatizza. È un bambino che non mangia, è un bambino che è nervoso, è un bambino che non dorme ed è un bambino che si rifiuta di andare a scuola. Lì dobbiamo capire veramente cosa succede, qual è il problema. Se è un problema nell'ambito scolastico, se è un problema di tipo familiare, se c'è un po' un po'. E dobbiamo stare attenti a non farci dei pregiudizi, perché nel momento in cui noi ci facciamo dei pregiudizi, poi non abbiamo la mente sgombera per capire realmente cosa sta succedendo. Certo. Ecco, dottor Santone, come si curano i disturbi fobici dal punto di vista farmacologico e psicoterapico? Allora, diciamo che dal punto di vista farmacologico, il disturbo fobico che risponde meglio, che comunque si hanno maggior dati, è quello rappresentato dalla fobia sociale. Il disturbo risponde bene a una certa categoria di farmaci antidepressivi. Il controllo dell'ansia può essere in generale, attraverso ansiolitici, una strategia che però, su cui non bisogna insistere eccessivamente, sia nel tempo che, quindi intanto nella durata che nelle dosi, per evitare che si venga a verificare poi un fenomeno di dipendenza, se non fisica, cioè di problemi alla sospensione del farmaco, psicologico, avere bisogno di ricorrere sempre più frequentemente a questo trattamento farmacologico. In media quanto dura, dottore, un trattamento farmacologico? Allora, si dice che in genere, una regola che vale un po' per i disturbi d'ansia, dal momento in cui sono riuscito a portare il problema al di sotto di una soglia di problematicità, cioè quindi di compromissione in quelle che sono le prestazioni del soggetto, si consiglia un trattamento di almeno un anno, forse anche un anno e mezzo, quindi un problema di stabilizzazione c'è. Bisogna quindi anche contrattare con il paziente, preparare il paziente a un trattamento che vada al di là della risoluzione del sintomo, perché poi, come tutte le terapie croniche, i soggetti quando stanno meglio tendono a sospendere, questo può avvenire anche, non so, per il trattamento dell'ipertensione, oppure per il trattamento del dolore cronico. Esistono alcuni farmaci che sono approvati anche per gli adolescenti rispetto a queste fobie. Per quanto riguarda le fobie di tipo non sociale, diciamo che in genere l'indicazione è di ricordo al trattamento farmacologico dopo aver sperimentato un intervento di tipo psicoterapico. Il psicoterapico viene sempre abbinato quindi con il farmacologico? No, no, si possono essere anche un tentativo isolato, però... Cioè si potrebbe partire anche con il trattamento psicoterapico senza ricorrere al farmacologico? In genere nelle fobie semplici è il trattamento indicato da quelle che sono le nostre linee guida, quindi i nostri documenti di riferimento, stilati dalle società scientifiche. Però possono essere benissimo poi associati. Chiaramente si può ricorrere anche se la fobia più tipica è una fobia specificamente situazionale. Si presenta quando devo salire sull'aereo, quando devo parlare in pubblico, quando mi confronto con determinate situazioni. Certo, se la fobia è una fobia ad esempio dei piccioni è un po' difficile girare tranquilli per le città o almeno per alcune città ed ecco che il problema può richiedere un intervento farmacologico anche prima perché diventerebbe molto molto invalidante in questo senso. Le terapie psicologiche possono essere... Quelle più efficaci quali sono, dottore? Guardi, innanzitutto, vi rifaccio a quello che diceva il professor Nardi, bisogna avere una valutazione complessiva del caso perché la fobia è la punta dell'iceberg. Però possiamo avere, diciamo, sott'acqua qualcosa di piccolo, qualcosa anche di molto grande che coinvolge determinati soggetti. Quindi trattare specificamente il caso può essere opportuno o non opportuno perché esistono i trattamenti specifici che potremmo definire uno ad esempio di desensibilizzazione. Cioè io avvicino piano piano il soggetto a quello che è lo stimolo. Potrei pensare che nel caso della paura dei cani porto piano piano il soggetto a fare una carezza, magari prima i cuccioli. Se sto parlando di un bambino lo faccio fare insieme ai genitori. Oppure se è la paura del volo esistono, ad esempio, dei voli simulati all'interno di delle cabine, spezzoni di cabina che non si allevano mai in volo ma in cui viene simulato il volo. Siamo non tanto in Italia ma negli Stati Uniti, non volare può essere fortemente invalidante da un punto di vista lavorativo. Altre strategie sono di tipo, definirei, ipnotico o paraipnotico. Chiaramente in questi casi si tende a far risalire quelle che sono le sensazioni spiacevoli o se vogliamo parlare delle condizioni traumatiche per liberarsene. Al di là dell'ipnotico possiamo avere anche un trattamento che si indica con la sigla EMDR che è un invito a parlare, esprimere, gettare fuori la paura mentre si ha uno stimolo, mentre si invita a concentrarsi su uno stimolo da seguire con lo sguardo. Poi possono esistere anche delle condizioni in cui invece bisogna avere un supporto di tipo psicologico più profondo, più ristrutturante, che inviti ad affrontare il problema, cioè un problema di paura, il problema di cambiamento, il problema di rapporto con gli altri. Anche perché, per metto un'ultima notazione, quelle che noi vediamo come fobie possono essere anche l'indice di un problema più grave. Per esempio si diceva prima la tendenza che si può essere a scivolare verso la depressione. Quindi con un vissuto, con una sensazione, con una convinzione di essere incapace ad esempio di fronteggiare la situazione. Dottore, quali sono gli errori più comuni nel trattamento delle fobie? Ma guardi, io penso possono essere essenzialmente due. Da un punto di vista farmacologico un trattamento troppo breve, quindi una volta che noi abbiamo risolto o pensiamo di aver risolto il problema lo interrompiamo troppo precocemente, perché possiamo magari trattare soggetti giovani che comunemente tendono a mantenere di meno le terapie. Secondo che sia troppo sintomatico, quindi noi abbiamo classi di farmaci tipo le benzodiazepine, molto diffuse, sono degli ansiolitici, delle volte diventa un'automedicazione, sai, mi è andato bene un farno, il tosto di un altro, non facciamo nomi, e tendo ad assumerlo da solo. Così contribuiscono in un certo senso al mantenimento, se non del disturbo del meccanismo disfunzionale, perché non affronto il problema che c'è alla base della paura, ma tolgo la paura. Quindi è molto importante seguire la terapia che viene prescritta? Nel momento in cui il disturbo è perdurante, invalidante ed è complesso, coinvolge anche gli altri, senza dubbio il consiglio del medico è importante. Da un punto di vista psicoterapico, è come dicevo prima, puntare troppo sul sintomo, pensare che il sintomo sia il problema, il sintomo ha la manifestazione di un problema, può essere molto limitato, e quindi può essere conveniente affrontare solo il sintomo, ma bisogna allargare la visuale. Bene, professor Nardi, Purtroppo molti sono insoddisfatti del proprio aspetto fisico, ma talvolta questa frustrazione può portare anche a dei problemi sociali, insomma una tendenza ad isolarsi. Si può parlare in questo caso di fobia? Sì, si può parlare di smorfofobia, cioè la paura di avere una parte del corpo deforme, una parte o tutto il corpo. Si può parlare anche sul versante relazionale, fobia sociale, perché convivono le due cose. non la paura di essere brutti e la paura di non piacere agli altri. Però sono le due facce di una stessa medaglia, e in genere sono fobie che ricorrono soprattutto nei grandi periodi di cambiamento. Parliamo ovviamente di adolescenza, che è la fase di cambiamento per definizione, e è un cambiamento, perché poi adolescere significa crescere sostanzialmente, che è disarmonico, che è asimmetrico, perché spesso si cambia fisicamente prima che psicologicamente, perché i cambiamenti fisici non vanno di pari passo. E anche qui però torna il problema di prima. Come arriva un ragazzino, una ragazzina all'adolescenza? Di quali strumenti dispone per accettarsi? Quali confronti gli vengono fatti? Quali standard considera per capire se riesce o non riesce a essere all'altezza della situazione? Quali sono le cause, professore, che portano poi una ragazza ad avere questi problemi? Guardi, il discorso è proprio quello di accompagnare nella crescita. Noi oggi abbiamo dei ragazzini che vivono nei social, che spesso comunicano con il mondo, ma non comunicano con i genitori. Sono ragazzini che sono abituati a usare lo smart, ma tra di loro non sanno parlare. Sono ragazzini che spesso dialogano più con il computer o con amici virtuali, piuttosto che direttamente con gli altri. E purtroppo anche noi adulti siamo incapaci molte volte di costruire un dialogo che non sia soltanto quello di fare una predica oppure dire a un figlio come deve essere, perché un figlio va ascoltato, non va giudicato. Anzi, come dicevo prima, se dobbiamo fare una critica, la critica deve essere costruttiva. E in più, questo essere immersi in un mondo virtuale che diventa il mondo reale, confonde la qualità degli approcci, ma nasce anche un ragazzino o una ragazzina indifeso rispetto, per esempio, al bullismo o rispetto a situazioni di stalking o altro, perché c'è una simmetria tra gli strumenti tecnologici. Cioè, un ragazzino oggi sa usare meglio di un adulto questi strumenti, e invece gli strumenti psicologici che ha per gestire sia la comunicazione, sia anche le critiche, gli possono venire fatti. Perché ti possono cominciare a prendere in giro dicendo che sei brutta, che sei deforme, che puzzi, o mille altre cose. E spesso un ragazzino non ha un interlocutore adulto con cui parlare perché si vergogna, perché pensa che effettivamente tutti capiscono che ha questo problema, mentre è un problema magari soltanto di bullismo, un problema virtuale. Quindi accompagnare nella crescita, capire che un dialogo si costruisce a zero anni, non a 12 o 14, è fondamentale. Non aver paura di ascoltare. Un'altra cosa importante, quando noi dialoghiamo spesso non spegniamo, io dico teleme, nel senso che siamo portati un po' a metterci nei panni dell'altro, nei panni di nostro figlio o nostra figlia, piuttosto che ascoltare i problemi e come vive quella situazione. Perché c'è un altro grande equivoco che crea disagio e che crea fobia, che è quello di pensare che viviamo tutti la stessa situazione allo stesso modo. Per cui pensiamo di capire un figlio o una figlia, semplicemente perché siamo stati adolescenti anche noi, e in quel momento noi non stiamo più ascoltando e siamo disconnessi rispetto a come quel ragazzino o quella ragazzina sta vivendo la sua adolescenza e i problemi con i suoi coetanei, cosa si sente dire a scuola, quali sono i messaggini di cui è fatto oggetto. Pensare che ognuno vive una propria situazione, quindi non relazionarla con quella che abbiamo magari vissuto noi. Sì, certo, assolutamente, ma avere anche questa disponibilità a metterci in gioco ascoltando, spogliandoci e spegnendo un po' la nostra personalità, perché se io voglio ascoltare lei non posso ascoltare me in contemporanea. Certo, professore, in questo caso qual è il trattamento medico che viene intrapreso? Ma il trattamento che viene intrapreso, anzitutto è un trattamento centrato sulla persona. Il primo compito di un medico deve essere quello di accostarsi a una persona, quindi non considerare una persona come una somma di funzioni, di processi biologici, psicologici o altro. Accostarsi a una persona significa avere questa capacità anche di valutare le risorse. Un medico è veramente medico se riesce a guardare le potenzialità al di là della patologia, perché allora può provare a farle emergere, quindi andare oltre quello che può essere un limite, un handicap, una disfunzione, una paura, e dare gli strumenti giusti per tirarli fuori. Ovviamente un intervento così in un soggetto in età evolutiva significa fare un intervento necessariamente anche sul sistema familiare. Certo, quindi insomma anche i genitori devono intervenire nel trattamento dell'adolescente. Sì, e qualche volta occorre anche trattare le paure, i dubbi, le insicurezze dei genitori, perché non è detto che se noi siamo adulti non abbiamo delle paure, non abbiamo dei problemi che possono essere risolti. Per esempio la paura di non piacerci attraverso i figli è una paura importante. Bene, ora noi ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il professor Nardi e il dottor Santone per parlare dei disturbi fobici. Ti brucia la voglia di camminare con calzature comode, originali, trendy, belle e pure convenienti? Eh sì, le vuoi pure firmate? E perché no? Ma tutto insieme non si può! Sì che si può, se vai al Jomod! Aha, il nuovo centro scarpa! Ci trovi la magnifica collezione Primavera-Estate, tutta la famiglia è servita nei reparti che ospitano le migliori firme di calzature per uomo-donna-bambino e per gli sportivi. Al nuovo Jomod trovi anche l'abbigliamento sportivo e casual. Jomod ti aspetta a Monsano, ora ha aperto anche la domenica pomeriggio.